Siamo al trofeo Jack, kick off stadium, sono finita le due partite della domenica, questo è un video di risposta, è un video di risposta a Fabrizio Manseo che ha voluto mettere le crocette perché ha vinto le sue crocette, tre punti che tra l'altro non ne sa nemmeno mettere, vorrei inquadrare come ha messo le due crocette qui, nemmeno le croci sa fare, è stato 5 minuti in campo, il suo mister gli ha dato 5 e 15 minuti in campo, l'Inter ha fatto tre gol per i 15 minuti, dopo 30 secondi di gioco già aveva subito il primo giugno dal sottoscritto, non vedo, il calcio è un'altra cosa, nemmeno nei crocetti sa fare, lo vediamo, ora Michele voleva rispondere perché l'amministratore del video voleva rispondere a voi, Fabrizio hai detto che erano 4 punti, però vedi un attimo, aspetta, qui ci arriva, quasi, quasi, hai visto Fabrizio indossi che mette meglio, non mettermi il scudo, se lo sbaglio è un punto, uno solo, uno solo, ci vediamo lo scudo di questo, poi ricordiamo che il Chelsea è il capolista solamente perché il CSK Mosca ancora non deve giocare, quindi credo proprio che Fabrizio Mazzio ritornerà al posto che gli spetta, Fabrizio Mazzio ritornerà in bandito, ciao Fabrizio, ciao Fabrizio, allora ricorda una cosa, prima di, io quando ho fatto il triplete, almeno lo dicevo che non giocavo, non mi esaltavo, cercando un po' di contenerti, di contenerti, perché sei solo un pagliaccio Mazzio, direzione sciocca, scusa, Mazzio sei solo un pagliaccio, questo non è un circo, Mazzio non è un circo, il pagliaccio vado a fare altrove, 5 e più, 5 e più, 5 e più invece il voto del capitano dell'Inter? 6 e più, 7 e più, 7, 7 e quindi un voto e mezzo di distacco impara a giocare a calcio, ma Mazzio è il vice allenatore, che si mette il chiamato? Porta l'acqua di cibo, porta l'acqua di cibo, quello che facevo io nel primo anno, però me ne lo ammettevo, a differenza di me, un po' di umiltà Mazzio, sei la vergogna!